Tutto il collegio è solo su RaiPlay! Scarica l'app! Bravo! Che ci fate? Che ci fate qua? Che ci fate? Che ci fate qua? Bello! È stato bellissimo! Non era solamente un sogno di toccarli e abbracciarli! Ci hanno chiamato per il colloquio! Io ho convocati perché volevo parlare un po' dei vostri ragazzi e lasciatemi cominciare con i complimenti per la vostra figlia che è davvero una ragazza speciale! Una mamma, una donna, non una ragazzina! Ecco che si è commossa la nostra bambina! Ma va bene, ma va bene! Usa è così! Usa si è presa carico di Raul quando era piccolina! Lei probabilmente la sua infanzia non l'ha vissuta appieno! Passiamo... Alla parte... Alla parte più problematica! Lui si comporta male! 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 Ecco! La sta esagerando! La sto esagerando! Allora è sfrontato! Provoca! Vuole veramente sapere che cosa succede se lei non fa quello che dico! Mi manda dal preside? Visto che è quello più in alto! Lei non ha potere in questo caso! Mi manda dal preside! Wow! Che novità! No! E quando c'è una situazione di ribellione immancabilmente c'è lui! Entro, entro! Non c'è! Signor Dario! Lei è espusa da questa colline! No! Vada a farle ma lì! Andiamo! Adesso ha sbagliato di fatto! E vabbè! Non corre! No! Ma che cazzo fai? Sicuramente ha ragione! Lui è un carattere superante! Non è... Non è cattivo! Cioè è... È così! Cioè è il suo modo... È il suo modo di porsi! È il suo modo di fare! Cioè non pensa magari! Comunque lo sapete! Non mi garba crescere! E sto tirando fuori il mio lato la sindrome di Peter Pan qua e... E quindi... È carina questa roba della sindrome di Peter Pan però a me è venuta la sindrome di Capitano Uncino eh! Ma ci hanno sempre detto che sei educato! Cioè di entrambi ci hanno sempre detto persone molto educate! Purtroppo devo dirvi che qua alcune volte è andato oltre l'educazione eh! Sono già stato due o tre volte quasi convinto a espellerlo! E... Lasciatemi dire... Rischia ancora! Quindi... Per favore! Evitiamo questo... Incidente! O lui si impegna a star qua da adesso fino alla fine in maniera dignitosa per bene! Oppure è meglio che se ne vada! Te hai voglia di rimanere qui o tu? Poi? Sì! Sì! E allora! Rimani qui però! Non ci vuole rimanere qui a far... a farlo studente modello a Stato Subacchia a studiare perché a me non mi fa voglia di studiare voglio fare il minimo indispensabile come ho sempre fatto! Sì! Questo non è un problema! Il discorso dello studio è una cosa! Il discorso dello studio è una cosa! Il discorso dell'educazione è un'altra! Sì ho capito! Però c'è nel senso se non mi dà una cosa fastidio io rispondo! Cioè non è che... Ma c'è un modo di rispondere! Il preside ha un po' esagerato a trovare un po' con le parole non credo di essermi comportato in quella maniera! No! Dai! No! Sono cavoli suoi! Ora mi ha sfidato! Sì, mi ha sfidato! Sono cavoli fuori! Non è una sfida! Eh sì, no! Il preside mi sta istigando a tirare fuori il peggio di me! Ciao! Ciao! Non è un modo! Ciao, bambolina! Vieni vicino! Vieni! Un pezzo a te! Capito? Lui rimarrà lì con la faccia! Signor Telly è stato lei a casa e io... One, two, three, go! Un pezzo a te! Un pezzo a te! Grazie a tutti